Quasi un milione di euro per tre interventi a San Zenone degli Ezzelini e quanto è stato recentemente assegnato dal Ministero dell'Interno grazie al bando emanato nel 2020 riguardo al Fondo per la Messa in Sicurezza degli Edifici e del Territorio al quale il Comune di San Zenone aveva partecipato con la richiesta di tre finanziamenti. 250 mila euro per la riqualificazione del centro di Carainati per la sistemazione e restyling della piazza e dell'area verde adiacente alla chiesa. A questo si aggiungono altri 150 mila euro destinate ad opere di completamento urbanistico.